Ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici di tutti gli uomini. San Paolo, Prima Lettera ai Corinzi, Capitolo 15, verso 19 Ora che il Vescovo della Diocesi di Renata, a cui appartiene questo mio amato paese di Valverde di Lucerna, sta, quanto si dice, promuovendo il processo di beatificazione del nostro Don Manuel, o meglio San Manuel Bueno, che vi fu parroco, voglio lasciare scritto a mo' di confessione, e Dio solo sa, non io con quale destino, tutto ciò che so e ricordo di quell'uomo matriarcale che ha riempito tutta la più intima vita della mia anima, che fu il mio vero padre spirituale, il padre del mio spirito, il mio, quello di Angela Carvaglino. L'altro, il mio padre carnale e temporale, l'ho appena conosciuto perché morì quando io ero ancora bambina. So che era giunto forestiero alla nostra Valverde di Lucerna, dove mise le radici sposandosi con mia madre. Aveva portato con sé alcuni libri, il Chisciotte, opere di teatro classico, qualche romanzo, storie, il Bertoldo, alla rinfusa, e da questi libri, gli unici quasi in tutto il paese, io divorai i miei sogni di bambina. La mia buona madre mi raccontava a malapena detti e fatti di mio padre, quelli di Don Manuel, che come tutto il paese adorava, e di cui era innamorata, più che castamente certo, le avevano cancellato il ricordo di quelli del marito, che raccomandava a Dio fervidamente ogni giorno nella recita del rosario. Del nostro Don Manuel mi ricordo come fosse ieri, quando ero bambina, a dieci anni, prima che mi portassero al collegio delle religiose della sede Vescovili di Renada. Avrà avuto allora il nostro santo sui trentasette anni. Era alto, magro, eretto. Reggeva la testa come il massiccio dell'avvoltoio regge la sua cresta, e nei suoi occhi c'era tutta la profondità azzurra del nostro lago. Attirava gli sguardi di tutti, e dietro a questi cuori, e quando ci guardava sembrava che, attraversando la carne come vetro, ci guardasse il cuore. Tutti l'amavamo, ma soprattutto i bambini, quante cose ci diceva. Erano cose, non parole. Il popolo cominciava a sentire odor di santità. Si sentiva pieno e inebriato dal suo aroma. Fu allora che mio fratello Lassaro, che era in America, da dove ci mandava regolarmente del denaro con cui vivevamo, in una decorosa agiatezza, fece sì che mia madre mi mandasse al collegio delle religiose per completare fuori dal paese la mia istruzione, nonostante a lui, a Lassaro, non andassero a genio le monache, ma siccome ci scriveva lì non ci sono ancora, che io sappia, scuole laiche e progressiste, men che meno per signorine, bisogna attenersi a quel che c'è. L'importante è che Angelita si incivilisca e che non rimanga tra quelle zotiche paesane. Ed entrai in collegio, pensando inizialmente di diventare maestra, ma poi la pedagogia mi andò di traverso. In collegio conobbi ragazze della città, diventando intima di alcune di loro, ma continuavo a prestare attenzione alle cose e alla gente del paese da cui ricevevo frequenti notizie e a volte qualche visita, e la fama del nostro parroco arrivava fino al collegio e si cominciava a parlarne nella città vescovile. Le monache non facevano altro che chiedermi di lui. Fin da quando ero molto piccola, ho nutrito, non so bene come, curiosità, preoccupazioni e inquietudini, dovute almeno in parte a quel guazzabuglio di libri di mio padre, e tutto questo si accrebbe in collegio, soprattutto nell'amicizia con una compagna che mi si affezionò oltremisura, e che a volte mi proponeva di entrare insieme nello stesso convento, giurandoci e persino firmando il nostro giuramento col sangue, perpetua fraternità, e a volte mi parlava, ad occhi semichiusi, di fidanzati e avventure matrimoniali. Di certo non ho più saputo niente di lei e della sua sorte, e fatto sta che quando si parlava del nostro Don Manuel, e quando mia madre mi diceva qualcosa di lui nelle sue lettere, cioè in quasi tutte, che io leggevo alla mia amica, questa esclamava come in estasi, «Bella sorte, cara, poter vivere vicino a un tal santo, un santo vivo, in carne e ossa, e potergli baciare la mano. Quando tornerai al tuo paese, scrivimi molto, molto, e raccontami di lui». Ho trascorso in collegio circa cinque anni, che ora mi sfuggono come un sogno del mattino, nella lontananza del ricordo, e a quindici anni sono tornata nella mia Valverde di Lucerna. Don Manuel ne era tutto, Don Manuel con il lago e con la montagna. Arrivai ansiosa di conoscerlo, di mettermi sotto la sua protezione, perché mi segnasse il sentiero della mia vita. Si diceva che era entrato in seminario per farsi prete, per curarsi dei figli di una sua sorella, da poco vedova, per far loro da padre, che in seminario si era distinto per la sua acutezza mentale e il suo talento, e che aveva rifiutato offerte di brillante carriera ecclesiastica, perché voleva essere solo della sua Valverde di Lucerna, del suo paese, perduto come un gancio tra il lago e la montagna che vi si specchia. E quanto amava i suoi compaesani, la sua vita era aggiustare matrimoni infrantumi, riportare ai genitori figli indomiti, o riportare i genitori ai loro figli, e soprattutto consolare gli afflitti e i tediati, e aiutare tutti a morire bene. Mi ricordo, tra l'altro, che quando tornò dalla città la disgraziata figlia della signora Rabona, che si era attraviata e tornò nubile e avvilita, portando un figlioletto con sé, Don Manuel non ebbe requie finché non fece in modo che la sposasse il suo vecchio fidanzato, Perote, riconoscendo come sua la creaturina, dicendogli, guarda, dà un padre a questa povera creatura che ce l'ha soltanto in cielo, ma Don Manuel, se non è colpa mia, chissà, figliolo, chissà, e soprattutto non si tratta di colpa. E oggi, il povero Perote, invalido e paralitico, ha come sostegno e consolazione della sua vita quel figlio che, contagiato dalla santità, di Don Manuel, ha riconosciuto come suo, benché non lo fosse. Nella notte di San Giovanni, la più corta dell'anno, erano e sono solite accorrere al nostro lago tutte le povere donnette, non pochi omini, che si sono creduti posseduti, indemoniati, e che pare siano solo isterici e a volte epilettici, e Don Manuel intraprese il compito di fare lui dal lago, da piscina probatica, cercando di alleviare i loro mali e, se mai fosse possibile, di curarli. Ed era tale l'attenzione della sua presenza, dei suoi sguardi, tale soprattutto la dolcissima autorità delle sue parole e soprattutto della sua voce, che miracolo di voce, che ottenne guarigioni sorprendenti. Con ciò, crebbe la sua fama che attirava al nostro lago e a lui tutti gli ammalati dei dintorni. E una volta venne una madre che chiedeva di fare un miracolo per suo figlio, al che rispose sorridendo tristemente, non ho la licenza del signor vescovo per fare miracoli. Si preoccupava soprattutto che andassero tutti puliti, se qualcuno aveva uno strappo nel vestito, gli diceva, vada al sacrestano che te lo rammendi. Il sacrestano era sarto e quando il primo giorno dell'anno andavano ad augurargli buono nomastico, il suo santo patrono era lo stesso Gesù Cristo nostro signore Don Manuel voleva che tutti gli si presentassero con la camicia nuova e a chi non l'aveva la regalava lui stesso. Mostrava a tutti lo stesso affetto e se alcuni trattava con maggior distinzione erano i più disgraziati e quelli che apparivano più ribelli e siccome c'era nel paese un povero idiota di nascita, Blasiglio, lo sciocco, proprio con lui era più affettuoso e giunse persino a insegnargli delle cose che pareva un miracolo le avesse apprese ed è che il piccolo barlume di intelligenza che ancora rimaneva nello sciocco gli si destava imitando come una povera scimmia il suo Don Manuel. La sua meraviglia era la voce, una voce divina che faceva piangere. Quando nell'ufficiare una messa principale o solenne intonava il prefazio tremava la chiesa e tutti quelli che lo udivano sentivano l'emozione delle loro stesse viscere. Il suo canto, uscendo dal tempio, andava ad adagiarsi sul lago e ai piedi della montagna e quando nel sermone del venerdì santo esclamava Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Passava nella gente tutto un tremito profondo come nelle acque del lago nei giorni di tramontana sferzante. Era come se sentissero lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, come se la voce uscisse da quel vecchio crucifisso ai cui piedi tante generazioni di madri avevano deposto le loro angosce. Tanto che, una volta, sentendolo, sua madre, quella di Don Manuel, non poté trattenersi e dal suolo del tempio in cui sedeva gridò Figlio mio! E fu un diluvio di lacrime di tutti. Si sarebbe potuto credere che il grido materno era uscito dalla bocca semiaperta della dolorosa, il cuore trapassato da sette spade che stava in una cappella del tempio. Poi, Blasiglio lo sciocco, andava ripetendo in tono patetico per le stradine come un eco il Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? In modo tale che, sentendolo, tutti scoppiavano in lacrime con grande gioia dello scemo per il suo trionfo imitativo. Il suo influsso sulla gente era tale che nessuno si azzardava a mentire dinanzi a lui e tutti, senza dover andare in confessionale, gli si confessavano. A tal punto che, essendo successo una volta un crimine ripugnante in un paese vicino, il giudice, uno stolto che conosceva male Don Manuel, lo chiamò e gli disse vediamo se voi Don Manuel riuscite a far dichiarare la verità a questo bandito. Perché dopo lo si possa castigare? replicò il santuomo. No, signor giudice, no, io non tiro fuori a nessuno una verità che forse lo porterà alla morte. Lassù, tra lui e Dio, la giustizia umana non mi riguarda, non giudicate e non sarete giudicati, ha detto nostro signore. Ma vedete, signor curato, capito? Date voi, signor giudice, a Cesare quel che è di Cesare che io darò a Dio quel che è di Dio e nell'uscire guardando fisso il presunto reo gli disse guarda bene se Dio ti ha perdonato che è la sola cosa che importa. In paese tutti andavano a messa magari solo per sentirlo e per vederlo sull'altare dove sembrava trasfigurarsi col volto splendente. C'era una santa pratica che aveva introdotto nel culto popolare e cioè che riunito nel tempo davamo all'uno a una sola voce il credo io credo in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra e ciò che segue e non era un coro ma una sola voce una voce semplice e unita tutte fuse in una formando come una montagna la cui vetta perduta a volte tra le nubi era Don Manuel e arrivati a credo nella resurrezione della carne e la vita eterna la voce di Don Manuel si tuffava come in un lago in quella della gente e il fatto è che taceva e io sentivo rintocchi della villa che si dice qui è sommersa nel letto del lago rintocchi che si dice anche si sentano la notte di San Giovanni ed erano quelli della villa sommersa nel lago spirituale della nostra gente sentivo la voce dei nostri morti che in noi risuscitavano nella comunione dei santi poi quando ho conosciuto il segreto del nostro santo ho capito che era come se una carovana in marcia nel deserto venuta meno la guida mentre erano vicini al termine della loro via se la prendessero sulle spalle per mettere il suo corpo senza vita nella terra promessa i più non volevano morire che tenuti dalla sua mano come da un ancora mai nei suoi sermoni si metteva a declamare contro empi massoni liberali o eretici a che scopo se nel paese non ce n'erano nemmeno contro la mala stampa invece uno dei temi più frequenti dei suoi sermoni era contro le malelingue perché lui perdonava tutto e perdonava tutti non voleva credere alla cattiva intenzione di nessuno l'invidia amava ripetere l'alimentano quelli che si sforzano di credersi invidiati e la maggior parte delle persecuzioni sono effetto più della mania di essere perseguitati che di quella di perseguitare ma sentite bene Don Manuel quello che mi hanno voluto dire e lui non deve interessarci ciò che uno vuol dire ma quello che dice senza volere la sua vita era attiva e non contemplativa e rifugiva il più possibile dal non aver nulla da fare quando sentiva dire che l'ozio è il padre dei vizi rispondeva è del peggiore di tutti che è il pensare ozioso e siccome io gli domandai una volta cosa volesse dire con questo mi rispose pensare ozioso è il pensare per non fare niente o pensare troppo a ciò che si è fatto anziché a quello che bisogna fare cosa fatta capo a e sotto un'altra perché nulla è peggio del rimorso senza correzione fare fare ben compresi fin da allora io che Don Miguel fuggiva il pensare ozioso e in solitudine perché qualche pensiero lo perseguitava così era sempre occupato e non poche volte nell'inventare occupazioni scriveva molto poco per sé così che a malapena ci ha lasciato qualche scritto nota ma in cambio faceva da scrivano agli altri e alle madri soprattutto redigeva le lettere per i figli assenti lavorava anche manualmente dando aiuto con le sue braccia a certi lavori del popolo in tempo di trebbiatura andava sull'aia a trebbiare e a ventilare e intanto ammaestrava o distraeva i contadini che aiutava in questi compiti un giorno del più terribile degli inverni incontrò un bambino quasi un morticino per il freddo che suo padre mandava a riprendere una bestia lontano sul monte guarda disse il bambino torna a casa a scaldarti e di a tuo padre che penserò io all'incarico e tornando con la bestia si incontrò col padre tutto confuso che gli andava incontro l'inverno spaccava legna per i poveri quando si seccò quel magnifico noce un noce matriarcale lo chiamava alla cui ombra aveva giocato da bambino e delle cui noci si era per tanti anni deliziato chiese il tronco lo portò a casa e dopo averne lavorato sei tavole che conservava i piedi del letto del resto fece legna per scaldare i poveri era solito anche fare palloni per far giocare i ragazzi e non pochi giocattoli per i bambini soleva accompagnare il medico nella sua visita e ne sottolineava le prescrizioni si interessava soprattutto alle gravidanze e all'educazione dei piccoli e riteneva cose tra le più blasfeme frasi come tetta e gloria e i bimbi morti se li prende il cielo dalla morte dei bambini era profondamente commosso un bambino che nasce morto o che muore appena nato e un suicidio mi disse una volta sono per me i misteri più terribili un bambino in croce e poiché una volta che uno si era tolto la vita il padre del suicida un forestiero gli domandava se gli avrebbe concesso la terra consacrata gli rispose certamente perché all'ultimo momento l'ultimo secondo della sua agonia si è pentito senza dubbio alcuno andava spesso anche a scuola ad aiutare il maestro ad insegnare con lui e non solo il catechismo che fuggiva l'ozio e la solitudine a tal punto che per stare con la gente e soprattutto con la gioventù e i ragazzi era solito andare al ballo e più di una volta si mise a suonare il cembalo perché i ragazzi e ragazze ballassero e questo che per un altro sarebbe sembrata una grottesca profanazione del sacerdozio prendeva in lui un carattere sacro come diritto religioso suonava l'angelus lasciava il cembalo e la bacchetta si scopriva il capo e tutti con lui recitava l'angelo del signore annunciò a Maria a Ave Maria e poi e ora a riposare per domani la prima cosa diceva è che la gente sia contenta che tutti siano contenti di vivere la contentezza di vivere è la prima cosa tra tutte nessuno deve desiderare di morire finché non vuole Dio ma io sì gli disse una volta una vedova da poco io voglio seguire mio marito e per quale motivo rimani qui per raccomandare la sua anima a Dio una volta a un matrimonio disse ah se potessi cambiare tutta l'acqua del nostro lago in vino in un vinello che per quanto se ne beva renda sempre allegri senza ubriacare mai o almeno con una sbornia allegra una volta passò per il paese una banda di poveri burattinai il loro capo giunto con la moglie gravamente ammalata e incinta e con tre figli che l'aiutavano rappresentava la parte di un pagliaccio mentre nella piazza del paese stava facendo ridere grandi e piccini ella sentendosi all'improvviso gravemente indisposta dovette ritirarsi e si ritirò accompagnata da uno sguardo angosciato del pagliaccio e da una risata dei bambini e accompagnata da Don Manuel che poi in un angolo della sala della locanda l'aiutò a morire bene e quando terminata la festa seppe il paese e seppe il pagliaccio della tragedia andarono tutti alla locanda e il povero uomo dicendo con voce di pianto si dice bene signor curato che voi siete davvero un santo gli si avvicinò volendo prendergli la mano per baciarla ma Don Manuel lo anticipò e prendendola lui al pagliaccio dichiarò davanti a tutti il santo sei tu onorato pagliaccio ti ho visto lavorare e ho capito che non lo fai solo per dare pane ai tuoi figli ma anche per dare allegria a quelli degli altri e io ti dico che tua moglie è la madre dei tuoi figli che ho affidato a Dio mentre lavoravi e rendevi allegri riposa nel signore e che tu andrai a raggiungerli con lei perché ti paghino ridendo gli angeli che fai ridere di gioia nel cielo e tutti i piccoli e grandi piangevano e piangevano tanto di dolore come di una misteriosa gioia in cui la pena negava e più tardi ricordando quel solenne momento ho capito che l'allegria imperturbabile di Don Manuel era la forma temporale e terrena di un'infinita ed eterna tristezza che con eroica santità celava agli occhi e alle orecchie degli altri con quella sua costante attività quel mescolarsi ai lavori e ai divertimenti di tutti sembrava voler fuggire da se stesso voler fuggire dalla sua solitudine ho paura della solitudine ripeteva ma anche così di quando in quando andava da solo sulla sponda del lago alle rovine della vecchia abazia dove ancora sembrano riposare le anime dei pigi cistercensi che la storia ha sepolto nella dimenticanza lì sta la cella del cosiddetto padre capitano e alle pareti si dice che ancora restino segni delle gocce di sangue con cui le schizzò nelle sue mortificazioni che pensava lì il nostro Don Manuel ciò che ricordo è che avendogli io domandato una volta parlando nell'abbazia come mai non gli fosse venuto in mente di entrare in convento mi rispose non è soprattutto perché ho come ho una sorella vedova e i miei nipoti da mantenere che Dio aiuta i suoi poveri ma perché io non sono nato eremita anacoreta la solitudine mi ucciderebbe l'anima e quanto al monastero il mio monastero è Valverde di Luserna io non debbo vivere solo io non debbo morire solo debbo vivere per la mia gente morire per la mia gente come posso salvare la mia anima se non salvo quella della mia gente ma ci sono stati santi eremiti solitari gli dissi sì allora il Signore ha dato la grazia della solitudine che a me ha negato e debbo rassegnarmi io non posso perdere il mio popolo per salvarmi l'anima così mi ha fatto Dio io non potrei sopportare le tentazioni del deserto io non potrei portare da solo la croce della nascita ho voluto con questi ricordi di cui si nutre la mia fede ritrarre il nostro Don Manuel qual era quando io ragazzina di circa sedici anni tornai dal collegio delle religiose di Renada al nostro monastero di Valverde di Luserna e tornai per mettermi ai piedi del suo abate la figlia della Simona mi disse appena mi vide diventata già una signorina e che sa il francese e ricama e suona il piano e che ne so quant'altro ancora e adesso a prepararti per darci un'altra famiglia e tuo fratello Lassaro quando torna sempre nel nuovo mondo no? sì signore sempre in America il nuovo mondo e noi nel vecchio bene quando gli scriverai digli da parte mia da parte del curato che sono ansioso di sapere quando torna dal nuovo mondo al vecchio portandoci le novità di là e digli che troverai il lago e la montagna tali e quali li ha lasciati quando andai a confessarmi da lui il mio turbamento era tale che non riuscivo ad articolar parola recitai l'atto di dolore balbettando quasi singhiozzando e lui che se ne accorse mi disse allora che succede pecorella di che o di chi hai paura perché tu non stai tremando per il peso dei tuoi peccati né per timor di dio no tu tremi per me non è vero mi misi a piangere ma che ti hanno detto di me che storie sono queste tua madre forse andiamo andiamo calmati e fa conto che stai parlando a tuo fratello ripresi coraggio e cominciai a confessargli le mie inquietudini i miei dubbi le mie tristezze ma e dove hai letto tutto questo saputella tutta letteratura non dedicartici troppo e nemmeno a santa teresa e se vuoi distrarti leggi il bertoldo che leggeva tuo padre uscii dalla mia prima confessione con quel sant'uomo profondamente consolata e quel mio primo timore quella paura più che rispetto con cui mi avvicinai a lui si mutò in una compassione profonda io ero allora una ragazzina quasi una bambina ma cominciavo a essere donna sentivo nelle mie viscere il succo della maternità e trovandomi nel confessionale insieme a quell'uomo santo senti come una tacita confessione sua nel sussurro sommesso della sua voce e ricordai di quando gridando lui in chiesa le parole di Gesù Cristo Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato sua madre quella di Don Manuel aveva risposto da terra figlio mio e senti questo grido che lacerava la quiete del tempio e tornai a confessarmi da lui per consolarlo una volta che in confessionale gli esposi uno dei miei dubbi mi rispose per questo già conosci il catechismo questo non lo domandate a me che sono ignorante la santa madre chiesa a dottori che vi sapranno ben rispondere ma se qui il dottore siete voi Don Manuel io io dottore dottore io neanche per sogno io dottorina non sono altro che un povero prete di paese e queste domande sai chi te le insinua chi te le rivolge beh il demonio e allora imbaldanzita lo colpì a bruciapelo e se le rivolge a voi Don Manuel a chi a me a me il demonio non ci conosciamo figlia non ci conosciamo e se ve le rivolgesse non gli farei caso e basta eh sbrighiamoci che mi stanno aspettando degli ammalati davvero mi ritirai pensando non so perché che il nostro Don Manuel così rinomato curatore di indemoniati non credeva nel demonio e andando verso casa mi imbattei in Blasiglio lo sciocco che per caso ronzava intorno al tempio e che come mi vide per festeggiarmi con le sue bravure ripete e in che modo Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato giunsi a casa angosciatissima e mi chiusi nella mia stanza a piangere finché non venne mia madre mi pare Angelita che con tante confessioni finirai per farmi timonaca non abbiate paura madre risposi che ho già abbastanza da fare qui in paese che è il mio convento finché non ti sposi non ci penso proprio replicai e un'altra volta che mi trovai con Don Manuel gli domandai guardandolo dritto negli occhi ma c'è l'inferno Don Manuel e lui imperturbabile per te figlia? no e per gli altri c'è? e a te che te ne importa se non ci devi andare mi importa per gli altri c'è? credi nel cielo nel cielo che vediamo guardalo e me lo mostrava sopra la montagna e sotto riflesso nel lago però bisogna credere all'inferno come al cielo replicai sì bisogna credere a tutto quello che insegna a credere la santa madre chiesa cattolica apostolica romana e basta Lessi non so quale profonda tristezza nei suoi occhi azzurri come l'acqua del lago quegli anni passarono come un sogno l'immagine di Don Manuel cresceva in me senza che io me ne rendessi conto perché era un uomo così quotidiano di tutti i giorni come il pane che chiediamo quotidianamente nel padre nostro io lo aiutavo come potevo nelle sue occupazioni visitavo i suoi malati i nostri malati le bambine della scuola riordinavo i vestiti raccolti dalla chiesa e gli facevo come diceva lui da diacona andai alcuni giorni invitata da una compagna del collegio in città e dovetti andar via perché la città mi soffocava e mi mancava qualcosa avevo sete della vista dell'acqua del lago e fame della vista delle rocce della montagna sentivo soprattutto la mancanza del mio Don Manuel e come se la sua assenza mi chiamasse come se corresse un pericolo lontano da me come se avesse necessità di me io cominciavo a sentire una specie di affetto materno verso il mio padre spirituale volevo alleviargli il peso della sua croce della nascita così arrivai ai miei ventiquattro anni quando tornò dall'America con un piccolo capitale risparmiato mio fratello Lassaro venne qua a Valverde di Luserna con il proposito di portarci nostra madre ed io a vivere in città forse a Madrid in paese diceva uno si rimbambisce si abbruttisce e si impoverisce e aggiungeva civiltà è il contrario di ruralità provincialismi no che non ti ho mandato a scuola per poi farti marcire qui tra questi burini rozzi io tacevo disposta anche a resistere all'emigrazione ma nostra madre che superava ormai la sessantina si oppose fin dall'inizio smuovermi alla mia età disse per prima cosa ma poi dichiarò chiaramente che non avrebbe potuto vivere senza la vista del suo lago della sua montagna e soprattutto del suo Don Manuel siete come le gatte che vi attaccate alla casa ripeteva mio fratello quando si rese conto di tutta l'influenza che sul paese intero e specialmente su di noi su mia madre e su di me esercitava quel santo evangelico si irritò contro di lui gli sembrava un esempio dell'oscura teocrazia in cui lui supponeva che fosse sprofondata la Spagna e cominciò a borbogliare senza posa tutti i vecchi luoghi comuni e anticlericali e persino antireligiosi che aveva portato rinnovati dal nuovo mondo in questa Spagna di Pecoroni diceva i preti manipolano le donne e le donne gli uomini e poi la campagna la campagna questa campagna feudale per lui feudale era un termine spaventoso feudale e medievale erano i due qualificativi che prodigava quando voleva condannare qualcosa era sconcertato dal nessun effetto che le sue diatribe facevano su di noi e dal quasi nessun effetto che facevano nel paese dove era ascoltato con rispettosa indifferenza questi zoticoni non li smuove nessuno ma siccome era buono perché era intelligente si rese conto presto del tipo di influenza che Don Manuel esercitava sulla gente comprese presto l'opera del prete del suo paese no non è come gli altri diceva è un santo ma tu sai come sono gli altri preti gli dicevo io e lui me lo figuro ma anche così non entrava in chiesa né cessava di far mostra per ogni dove della sua incredulità cercando sempre di lasciar da parte Don Manuel e ormai nella gente si era andata formando non so come un'aspettativa quella di una specie di duello tra mio fratello Lazaro e Don Manuel o piuttosto si aspettava la conversione dell'uno grazie all'altro nessuno dubitava che alla fine il parroco lo avrebbe portato nella sua parrocchia Lazaro da parte sua ardeva dal desiderio me lo disse poi di andare a sentire Don Manuel di vederlo e sentirlo in chiesa di avvicinarsi a lui e conversare con lui di conoscere il segreto di quella sua influenza spirituale sulle anime e si faceva pregare per questo finché alla fine per curiosità diceva andò a sentirlo sì è un'altra cosa mi disse dopo averlo sentito non è come gli altri ma a me non la dà a bere è troppo intelligente per credere a tutto quello che deve insegnare allora lo credi un ipocrita gli dissi ipocrita? no ma è il suo mestiere ne deve vivere quanto a me mio fratello si impegnava a farmi leggere libri che aveva portato e altri che mi incitava a comprare quindi tuo fratello Lassaro si impegna a farti leggere mi diceva Don Manuel e leggi figlia mia leggi e fagli piacere so che non devi leggere se non cose buone leggi anche se sono romanzi non sono migliori le storie che chiamano vere vale più leggere che non nutrirsi di pettegolezzi e chiacchiere della gente ma leggi soprattutto libri di pietà che ti diano contentezza di vivere una contentezza pacifica e silenziosa l'aveva lui in quel tempo nostra madre si ammalò gravemente e ci morì e nei suoi ultimi giorni tutta la sua ansia era che Don Manuel convertisse Lassaro che sperava di rivedere un giorno in cielo in un angolo tra le stelle da cui si vedesse il lago e la montagna di Valverde di Lucerna ormai lei se ne andava a vedere Dio voi non ve ne andate le diceva Don Manuel voi restate il vostro corpo qui in questa terra e la vostra anima anch'essa qui in questa casa che vede e sente i suoi figli anche se questi non la vedono né la sentono ma io padre disse vado a vedere Dio Dio figlia mia sta qui come in ogni luogo e voi lo vedrete da qui da qui e vedrete tutti noi in lui e lui in noi Dio venerenda merito gli dissi la contentezza con cui morirà tua madre mi disse sarà la sua vita eterna e rivolgendosi a mio fratello Lassaro il suo paradiso è continuare a vederti ed è ora che bisogna salvarla dille che pregherai per lei ma ma dille che pregherai per lei a cui devi la vita e so che una volta che glielo avrai promesso pregherai e so che dopo che pregherai mio fratello avvicinandosi gli occhi colmi di lacrime a nostra madre agonizzante le promise solennemente di pregare per lei e io dal cielo per te per voi rispose mia madre baciando il crocifisso e coi suoi occhi in quelli di Don Manuel affidò la sua anima a Dio nelle tue mani affido il mio spirito pregò il sant'uomo restammo solo in casa mio fratello e io ciò che accadde alla morte di mia madre mise e Lazaro in rapporto con Don Manuel che sembrò trascurare un po' gli altri suoi pazienti gli altri suoi bisognosi per aver cura di mio fratello andavano di sera passeggiando sulla sponda del lago o verso le rovine vestite di edera della vecchia abbazia dei cistercensi è un uomo meraviglioso mi diceva Lazaro sai già che dicono che nel fondo di questo lago c'è una villa sommersa e che la notte di San Giovanni a mezzanotte si sentano le campane della sua chiesa sì rispondevo una villa feudale e medievale io credo aggiungeva che nel fondo dell'anima del nostro Don Manuel c'è ugualmente sommersa soffocata una villa e che qualche volta se ne sentono i rintocchi sì gli dissi quella villa sommersa nell'anima di Don Manuel e perché non anche nella tua è il cimitero delle anime dei nostri antenati quelli della nostra Valverde di Lucerna feudale e medievale mio fratello finì con l'andare a messa sempre a sentire Don Manuel e quando si sparse la voce che avrebbe fatto il suo dovere con la parrocchia che si sarebbe comunicato quando si comunicavano gli altri un'intima gioia percorse il paese intero che credette di averlo recuperato ma fu una gioia tale così limpida che Lazaro non si sentì vinto né sminuito e giunse il giorno della sua comunione davanti a tutto il paese con tutto il paese quando toccò a mio fratello potei vedere che Don Manuel bianco come la neve di gennaio sulla montagna e tremando come treme il lago quando lo sferza la tramontana gli si avvicinò con la sacra particola in mano e questa gli tremava a tal punto che nell'accostarla alla bocca di Lazaro gli cadde mentre gli veniva a un capogiro e fu mio fratello stesso a raccogliere l'ostia e a portarla alla bocca e la gente vedendo piangere Don Manuel pianse dicendosi come gli vuol bene e in quel momento già che era l'alba un gallo cantò dopo essere tornata a casa e chiusa in essa con mio fratello gli gettai le braccia al collo e baciandoli gli dissi oh Lazaro Lazaro che gioia ci hai dato a tutti a tutti a tutto il paese a tutti ai vivi ai morti e soprattutto a mamma a nostra madre hai visto il povero Don Manuel piangeva di gioia che gioia ci hai dato a tutti per questo l'ho fatto mi rispose per questo per darci gioia lo avrei fatto anzitutto per te stesso per conversione e allora Lazaro mio fratello pallido e tremante come Don Manuel quando gli aveva dato la comunione mi fece sedere sulla stessa poltrona dove soleva sedere nostra madre riprese fiato e poi come in un'intima confessione domestica e familiare mi disse guarda Angelita è giunta l'ora di dirti la verità tutta la verità e te la dirò perché debbo dirtela perché a te non posso non debbo tacerla e perché poi dovresti indovinarla e quel che è peggio a metà prima o poi e allora serenamente e tranquillamente a mezza voce mi raccontò una storia che mi immerse in un lago di tristezza di come Don Manuel aveva lavorato soprattutto in quelle passeggiate alle rovine della vecchia abbazia cistercenze perché non desse scandalo perché desse il buon esempio perché si incorporasse alla vita religiosa del popolo perché fingesse di credere se non credeva perché occultasse le sue idee al riguardo ma senza neppure tentare di catechizzarlo di convertirlo in altro modo ma è possibile esclamai costernata altro che se è possibile sorella altro che e quando io gli dicevo ma siete voi voi il sacerdote a consigliarmi di fingere lui balbettando fingere? fingere no questo non è fingere prendi acqua benedetta come ha detto qualcuno e finirai col credere e quando io guardandolo negli occhi gli dissi e voi celebrando la messa avete finito col credere lui abbassò gli occhi sul lago e gli occhi gli si riempirono di lacrime così che gli ho strappato il suo segreto Lazaro gemetti e in quel momento passò per strada Belasiglio lo sciocco gridando Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e Lazaro trasalì credendo di sentire la voce di Don Manuel forse quella di nostro signore Gesù Cristo allora continuò mio fratello ho compreso le sue ragioni e con questo ho compreso la sua santità perché è un santo sorella un vero santo nel tentare di guadagnarmi alla sua santa causa perché è una causa santa santissima non cercava di arrogarsi un trionfo ma lo faceva per la pace per la felicità per l'illusione se vuoi di quelli che gli sono affidati ho compreso che se l'inganna così ammesso che sia inganno non è per far carriera mi sono arreso alle sue ragioni ed ecco la mia conversione io non dimenticherò mai il giorno in cui dicendogli ma Don Manuel la verità la verità innanzitutto lui tremando mi sussurrò all'orecchio e benché fossimo soli in mezzo alla campagna la verità la verità Lazaro è forse una cosa terribile una cosa intollerabile mortale la gente semplice non ci potrebbe vivere e perché me la lasciate intravedere ora qui come in confessione gli dissi e lui perché se no mi tormenterebbe tanto tanto che finirei col gridarla in mezzo alla piazza e questo mai 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 io sto qui per far vivere le anime dei miei parrucchiani per farli felici per far sì che si sognino immortali non per ammazzarli quello che è necessario qui è che vivano in modo sano che vivano con un'animità di sentimento e con la verità con la mia verità non vivrebbero che vivano e questo fa la chiesa farli vivere religione vera tutte le religioni sono vere in quanto fanno vivere spiritualmente i popoli che le professano in quanto li consolano di aver dovuto nascere per morire e per ciascun popolo la religione più vera è la sua quella che ha fatto e la mia la mia è consolarmi nel consolare gli altri anche se la consolazione che gli do non è la mia non dimenticherò mai le sue parole ma questa tua comunione è stata un sacrilegio mi azzardai a insinuare subito pentendomi di averlo insinuato sacrilegio e lui che me l'ha data e le sue messe che martirio esclamai e ora aggiunse mio fratello ce n'è un altro in più per consolare il paese per ingannarlo dissi per ingannarlo no replicò ma per rafforzarlo nella sua fede e il paese dissi crede veramente e io che ne so crede senza volere per abitudine per tradizione e quel che serve è non svegliarlo e che viva nella sua povertà di sentimenti perché non acquisti torture di lusso beati i poveri di spirito questo fratello l'ha imparato da Don Manuel e ora dimmi hai mantenuto quello che avevi promesso a nostra madre quando ci stavo morendo di pregare per lei non dovevo mantenerlo ma per chi mi hai preso sorella mi credi capace di venire meno alla mia parola a una promessa solenne e a una promessa fatta e sul letto di morte a una madre che ne so io potresti aver voluto ingannarla perché morisse consolata e che se io non avessi mantenuto la promessa sarei vissuto senza consolazione allora ho mantenuto la promessa non ho mancato di pregare un sol giorno per lei solo per lei e per chi altro ancora per te stesso ed ora in poi per Don Manuel ci separammo per andare ciascuno nella propria stanza io a piangere tutta la notte a chiedere la conversione di mio fratello e di Don Manuel e lui Lazaro non so a cosa dopo quel giorno io avevo timore di incontrarmi da sola con Don Manuel che continuavo ad assistere nei suoi piuffici e lui sembrò rendersi conto del mio stato intimo e indovinarne la causa e quando infine mi avvicinai a lui nel tribunale della penitenza chi era il giudice e chi il reo tutti e due lui ed io chinammo in silenzio la testa e ci mettemmo a piangere e fu lui Don Manuel che ruppe il tremendo silenzio per dirmi con voce che sembrava uscire da una tomba però tu Angelina tu credi come quando avevi dieci anni non è così? sì credo padre allora continua a credere e se ti vengono dubbi tacili a te stessa bisogna vivere mi feci coraggio e tutta tremante gli dissi ma voi padre credete voi? vacillò un momento e ricomponendosi mi disse credo ma in che cosa padre? credete nell'altra vita? credete che quando moriamo non moriamo del tutto? credete che torneremo a vederci? ad amarci nell'altro mondo venturo? credete nell'altra vita? il povero santo si inghiozzava guarda figlia questo lasciamolo stare e ora scrivendo questa memoria mi dico perché non mi ingannò? perché non mi ingannò allora come ingannava gli altri perché si afflisse perché non poteva ingannare se stesso o perché non poteva ingannare me? e voglio credere che si afflisse perché non poteva ingannarsi per ingannarmi e allora aggiunse prega per me per tuo fratello per te stessa per tutti bisogna vivere e bisogna dare vita e dopo una pausa e perché non ti sposi angelina? lo sapete già perché padre mio ma no no devi sposarti tra Lazzaro ed io ti cercheremo un fidanzato perché a te conviene sposarti perché ti sicurino queste preoccupazioni preoccupazioni Don Manuel so bene quel che dico e non ti affliggere troppo per gli altri che ciascuno ne ha già abbastanza col dover rispondere di se stesso proprio voi Don Manuel dirmi questo proprio voi consigliarmi di sposarmi per rispondere di me e non prendermela per gli altri proprio voi hai ragione angelina non so più quel che dico non so più quel che dico da quando mi sto confessando con te e sì sì bisogna vivere bisogna vivere e quando io mi stavo alzando per uscire dal tempio mi disse e ora angelina nel nome di questa gente mi assolvi mi sentì come penetrata da un misterioso sacerdozio e gli dissi in nome di Dio Padre Figlio e Spirito Santo vi assolvo Padre e uscimmo dalla chiesa e uscendo mi tremavano le mie viscere materne mio fratello interamente messosi al servizio di Don Manuel era il suo più assiduo collaboratore e compagno li univa inoltre il comune segreto lo accompagnava nelle sue visite agli ammalati alle scuole e metteva il suo denaro a disposizione del santuomo e mancò poco che non imparasse ad aiutarlo nella messa ed entrava sempre più nell'anima insondabile di Don Manuel che uomo mi diceva guarda ieri passeggiando sulla sponda del lago mi ha detto ecco la mia tentazione più grande e poiché io lo interrogavo con lo sguardo ha aggiunto il mio povero padre morto a circa 90 anni ha passato la vita come mi confessò lui stesso torturato dalla tentazione del suicidio che gli veniva non ricordava da quando di nascita diceva e a difendersene e questa difesa è stata la sua vita per non soccombere a questa tentazione moltiplicava i suoi pensieri per conservare la vita mi ha raccontato scene terribili mi sembrava come una pazzia e io l'ho ereditata e come mi chiama quest'acqua con la sua quiete e apparente la corrente si muove all'interno specchio del cielo la mia vita Lassaro è una specie di suicidio continuo un combattimento contro il suicidio che è lo stesso ma che vivano loro che vivano i nostri e poi ha aggiunto qui il fiume ristagna in lago per poi scendere al pianoro precipitarsi in cascate salti e torrenti per gole e forre vicino alla città e così ristagna la vita qui nel paese ma la tentazione del suicidio è maggiore qui vicino allo stagno che riflette la notte stellata che non vicino alle cascate che fanno paura guarda Lassaro ho assistito perché morissero bene poveri paesani ignoranti analfabeti che a malapena erano usciti dal paese e ho potuto sapere dalle loro labbra o almeno indovinarlo la vera causa della loro malattia mortale e ho potuto guardare lì al capezzale del loro letto di morte tutta l'oscurità dell'abisso del tedio di vivere mille volte peggio della fame allora Lassaro continuiamo a suicidarci nella nostra opera e nella nostra gente e che sogni la vita come il lago sogna il cielo un'altra volta mi diceva ancora mio fratello mentre tornavamo qua abbiamo visto una ragazza una capraia che ritta su un picco della falda della montagna alla vista del lago stava cantando con una voce più fresca delle sue acque Don Manuel mi trattenne e indicandomela disse guarda sembra come se il tempo fosse finito come se questa ragazza stesse qui da sempre così come sta e cantando come sta e come se si dovesse continuare a star così sempre come stava quando ebbe inizio la mia coscienza come starà quando avrà fine questa ragazza fa parte della natura con le rocce le nubi gli alberi l'acqua e non della storia come sente come anima la natura Don Manuel non dimenticherò mai il giorno della nevicata quando mi disse Lassaro hai visto un mistero più grande della neve che cade nel lago e vi muore mentre copre con la sua trina la montagna Don Manuel doveva contenere mio fratello nel suo zelo e nella sua esperienza di neofita e quando seppe che andava predicando contro certe superstizioni popolari dovette dirgli lasciali così difficile fargli capire dove termina la credenza ortodossa e dove comincia la superstizione e più ancora per noi allora lasciali finché si consolano meglio che credano tutto anche cose contraddittorie tra loro piuttosto che non credano nulla il fatto che chi crede troppo finisce col non credere nulla è cosa da protestanti non protestiamo la protesta uccide la contentezza una notte di plenilunio mi raccontava ancora mio fratello tornava al paese dalla sponda del lago la cui superficie arricciava allora la brezza montana e nei ricci brillavano i raggi della luna piena e don manuel disse a lazaro guarda l'acqua sta recitando le litanie e ora dice iano a cieli ora pronobis porta del cielo prega per noi e tremando caddero dalle sue ciglia sull'erba in terra due lacrime fugaci nelle quali come nella rugiada si bagnò ancora tremante il lume della luna piena e corriva il tempo e mio fratello io ci accorgevamo che le forze di don manuel venivano meno e che ormai non riusciva a contenere del tutto l'insondabile tristezza che lo consumava o forse un'infermità traditrice gli andava minando il corpo e l'anima e lazaro forse per distrarlo di più gli suggerisse non fosse una buona idea affondare nella chiesa qualcosa di simile a un sindacato cattolico agrario sindacato rispose tristemente don manuel sindacato e cos'è io non conosco altro sindacato che la chiesa e sai già il mio regno non è di questo mondo il nostro regno lazaro non è di questo mondo e dell'altro don manuel chino il capo l'altro lazaro sta qui anche lui perché ci sono due regni in questo mondo o meglio l'altro mondo andiamo che non so cosa sto dicendo e in quanto al sindacato in te è un resto della tua epoca progressista no lazaro no la religione non è fatta per risolvere i conflitti economici o politici di questo mondo che dio ha affidato alle dispute degli uomini ci pensino gli uomini e agiscano gli uomini come avranno pensato e come avranno agito che si consolino di essere nati che vivono più contenti che possono nell'illusione che tutto questo ha uno scopo io non sono venuto a sottomettere i poveri ai ricchi né a predicare a questi che si sottomettano a quelli rassegnazione e carità in tutti e per tutti perché anche il ricco deve rassegnarsi alla sua ricchezza e alla vita e anche il povero deve avere carità verso il ricco questione sociale lascia perdere questo non ci riguarda che tirino fuori una nuova società dove non ci sono più né ricchi né poveri e la ricchezza sia giustamente distribuita e tutto sia di tutti e poi e non credi che dal benessere generale nascerà più forte il tedio della vita sì lo so già che uno di questi capi di quella che chiamano rivoluzione sociale ha detto che la religione è l'oppio del popolo oppio 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 sì diamogli oppio e che dorma e sogni io stesso con questa mia folle attività mi sto somministrando oppio e non riesco a dormire bene e men che meno a sognare bene questo terribile incubo e anche io posso dire col divino maestro la mia anima è triste fino alla morte no Lazaro no niente sindacati da parte nostra se lo fondano loro mi starà bene perché così si distraggono che giochino al sindacato se li fa contenti tutto il paese si accorse che a Don Manuel diminuivano le forze che si stancava la sua stessa voce quella voce che era un miracolo assunse un certo tremore intimo gli venivano le lacrime per qualunque motivo e soprattutto quando parlava la gente dell'altro mondo dell'altra vita doveva trattenersi a momenti chiudendo gli occhi che lo sta vedendo dicevano e in quei momenti era Blasiglio lo sciocco quello che piangeva con maggior impegno perché ormai Blasiglio piangeva più di quanto non ridesse e persino le sue risa suonavano a pianto giunta l'ultima settimana santa che Don Manuel celebrò con noi nel nostro mondo nel nostro paese la gente tutta presentì il finale della tragedia e come suonò allora quel Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato l'ultimo che Don Manuel singhiozzò in pubblico e quando citò la frase del divino maestro al buon ladrone tutti i ladroni sono buoni ripeteva il nostro Don Manuel domani sarai con me in paradiso e l'ultima comunione distribuita dal nostro santo e al momento di darla a mio fratello stavolta con mano ferma dopo il liturgico in vitam eternam si chinò all'orecchio e gli disse non c'è altra vita eterna che questa che la sognino eterna eterna di pochi anni e quando la diede a me mi disse prega figlia mia prega per noi e poi una cosa così straordinaria che la porto nel cuore come il mistero più grande e fu che mi disse con voce che sembrava di un altro mondo e prega anche per nostro signore gesù cristo mi alzai senza forze e quasi sonnambula e tutto intorno mi sembrò un sogno e pensai dovrò pregare anche per il lago e per la montagna e poi non sarò mica indemoniata e giunta a casa presi il crocifisso con cui tenendolo in mano mia madre aveva reso la sua anima a dio e guardandolo attraverso le lacrime ricordando il dio mio dio mio perché mi hai abbandonato dei nostri due cristi quello di questa terra e quello di questo paese pregai sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra prima e poi e non indurce in tentazione amen poi tornai a quell'immagine della dolorosa col cuore trapassato da sette spade che era stata la più dolorosa consolazione della mia povera madre e pregai santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen e l'avevo appena pregato che mi dissi peccatori noi peccatori e qual è il nostro peccato quale e passai tutto il giorno angosciata da questa domanda il giorno seguente accorsi da don manuel che andava assumendo una solennità di religioso tramonto e gli dissi ricordate padre mio quando anni fa rivolgendovi io una domanda mi rispondeste questo non lo domandate a me che sono ignorante la santa madre chiesa a dottori che vi sapranno ben rispondere certo che ricordo e ricordo che ti dissi che quelle erano domande che ti dettava il demonio ebbene padre oggi torno io l'indemoniata a rivolgervi un'altra domanda che mi detta il mio demonio custode domanda ieri nel darmi la comunione mi diceste di pregare per tutti e persino per va bene tacilo e continua sono andata a casa e mi sono messa a pregare e arrivata a prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte una voce intima mi ha detto peccatori peccatori noi e qual è il nostro peccato qual è il nostro peccato padre quale rispose l'ha già detto un gran dottore della chiesa cattolica apostolica spagnola l'ha già detto il gran dottore della vita è un sogno disse che il delitto maggiore dell'uomo è di essere nato questo figlia è il nostro peccato di essere nati e si cura padre va via e torna a pregare torna a pregare per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte sì alla fine il sogno si cura alla fine la croce della nascita a termine e come disse Calderon fare bene e ingannare bene non si perdono nemmeno nei sogni e giunse al fine l'ora della sua morte tutto il paese la vedeva arrivare e fu la sua più grande lezione non volle morire solo né ozioso morì predicando al paese nel tempio anzitutto prima di comandare che ve lo portassero che ormai non poteva muoversi per la paralisi ci chiamò a casa sua a Lazaro e a me e lì stando noi tre da soli ci disse ascoltate e abbiate cura di queste povere pecorelle che si consolino del vivere che credano ciò che io non ho potuto credere e tu Lazaro quando dovrai morire muori come me come morirà la nostra Angela nel seno della santa madre cattolica apostolica romana della santa madre chiesa di Valverde di Lucerna ben inteso e a mai più rivederci che finisce questo sogno della vita padre padre gemetti non affliggerti Angela continua a pregare per tutti i pecatori per tutti i nati e che sognino che sognino che voglia di dormire 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 senza fine dormire per tutta l'eternità e senza sognare dimenticando il sogno quando mi seppelliranno che sia una cassa fatta con quelle sei tavole che ho segato dal vecchio noce poveretto alla cui ombra ho giocato da bambino quando cominciai a sognare e allora sì che credevo nella vita eterna cioè immagino ora che ci credevo allora per un bambino credere non è altro che sognare e per un popolo quelle sei tavole che ho segato con le mie stesse mani le troverete ai piedi del letto ebbe un affanno e ripreso si proseguì ricorderete che quando recitavamo tutti in uno in una mità di sentimento fatti popolo il credo giunti al finale io tacevo quando gli israeliti stavano per giungere al termine della loro migrazione nel deserto il signore disse ad Aronne e Mosè che per non aver creduto non avrebbero condotto il loro popolo nella terra promessa e li fece salire al monte di Or dove Mosè fece denudare Aronne che vi morì e poi Mosè salì dalle pianure di Moab al monte Nebo sulla cima di Pisgà di fronte a Gerico e il signore gli mostrò tutta la terra promessa al suo popolo ma dicendogli tu non vi entrerai e lì morì Mosè e nessuno conobbe la sua sepoltura e lasciò come capo Giosuè si tu Lazaro il mio Giosuè e se puoi fermare il sole fermalo e non ti interessare del progresso come Mosè ho conosciuto il Signore il nostro supremo sogno faccia a faccia e sai già che dice la scrittura che chi vede il volto di Dio chi vede questo sogno negli occhi del volto con cui ci guarda muore senza rimedio e per sempre dunque che non veda il volto di Dio questo nostro popolo finché vive che una volta morto non c'è più problema perché non vedrà nulla padre 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 gemetti ancora e lui tu Angela prega sempre continua a pregare perché i peccatori tutti sognino fino a morire la resurrezione della carne e la vita eterna io aspettavo un e chissà quando gli venne un altro affanno a Don Manuel e ora aggiunse ora nell'ora della mia morte è l'ora che mi si conduca su questa stessa poltrona in chiesa per congedarmi lì dalla mia gente che mi attende fu portato in chiesa e messo in poltrona nel presbiterio ai piedi dell'altare aveva tra le mani un crocifisso mio fratello ed io ci mettemmo accanto a lui ma fu Blasiglio lo sciocco che si accostò di più voleva prendere la mano di Don Manuel baciargliela e siccome alcuni cercavano di impedirglielo Don Manuel li riprese dicendo lasciatelo che mi sia vicini vieni Blasiglio dammi la mano lo sciocco piangeva di gioia e poi Don Manuel disse poche parole figli miei che sento le mie forze appena sufficienti per morire e non ho niente di nuovo da dirvi vi ho già detto tutto vivete in pace e contenti e aspettando che tutti ci vediamo un giorno nella Valverde di Lucerna di lassù tra le stelle della notte che si riflettono nel lago sopra la montagna e pregate pregate Maria Santissima pregate nostro Signore siate buoni che questo basta perdonatemi il male che posso avervi fatto senza volerlo e senza saperlo e ora dopo che vi avrò dato la mia benedizione recitate tutti insieme il Padre Nostro l'Ave Maria il Salve Regina e infine il Credo poi col crocifisso che aveva in mano diede la benedizione al popolo mentre le donne piangevano e anche i bambini e non pochi uomini e subito cominciarono le preghiere che Don Manuel ascoltava in silenzio preso per mano da Blasiglio che al suono della recitazione si stava addormentando prima il Padre Nostro con il suo sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra poi il Santa Maria con il suo prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte di seguito il Salve Regina con il suo Gementi e Piangenti in questa valle di lacrime e da ultimo il Credo e giunti alla resurrezione della carne e la vita eterna tutto il popolo sentì che il suo Santo aveva reso l'anima a Dio e non vi fu bisogno di chiudergli gli occhi perché morì con gli occhi chiusi e nell'andare a svegliare Blasiglio trovammo che si era addormentato nel Signore per sempre così bisogno seppellire due corpi tutto il paese andò poi alla casa del Santo a prendere reliquie a divedersi i brandelli delle sue vesti a portar via quanto poterano come reliquia e ricordo del benedetto martire mio fratello conservò il suo breviario tra i cui fogli trovò una foglia essiccata e come in un erbario un garofano attaccato a una pagina e su questa una croce con una data nessuno in paese volle credere alla morte di Don Manuel tutti si aspettavano di vederlo ogni giorno e forse lo vedevano passare lungo il lago o riflesso in esso o sullo sfondo della montagna tutti continuavano a sentire la sua voce e tutti accorrevano alla sua sepoltura intorno alla quale sorse un vero culto le indemoniate venivano ora a toccare la croce di noce anch'essa fatta con le sue mani e tratta dallo stesso albero da cui trasse le sei tavole in cui fu sotterrato e quelli che meno volevano credere che fosse morto eravamo mio fratello ed io lui Lazaro continuava la tradizione del santo e cominciò a redigere ciò che gli aveva sentito note di cui mi sono servita per questa memoria ha fatto di me un uomo nuovo un vero Lazaro un risuscitato mi diceva mi ha dato la fede fede? lo interrompevo io sì fede fede nella consolazione della vita fede nella contentezza della vita mi ha curato lui dal mio progressismo perché Angela ci sono due tipi di uomini pericolosi e nocivi quelli che convinti della vita dell'oltretomba della risurrezione della carne tormentano da inquisitori quali sono gli altri affinché disprezzando questa vita come transitoria si guadagnino l'altra e quelli che credendo solo in questo come forse tu gli dicevo io sì e come Don Manuel ma non credendo che a questo mondo sperano in non so quale società futura e si sforzano di negare al popolo la consolazione di credere nell'altro di modo che di modo che bisogna fare in modo che vivano nell'illusione il povero prete che venne a sostituire Don Manuel nella parrocchia entrò a Valverde di Lucerna schiacciato dal ricordo del santo e si affidò a mio fratello e a me perché lo guidassimo non voleva altro che seguire le orme del santo e mio fratello gli diceva poca teologia eh poca teologia religione religione e io sentendolo sorridevo pensando se anche la nostra non fosse teologia io cominciai allora a temere per il mio povero fratello da quando c'era morto Don Manuel non si poteva dire che vivesse visitava ogni giorno la sua tomba e passava le ore morte contemplando il lago sentiva la nostalgia della pace vera non guardare tanto il lago gli dicevo io no sorella non temere un altro il lago che mi chiama è un'altra la montagna non posso viverne senza e la contentezza di vivere Lassaro la contentezza di vivere è per gli altri peccatori non per noi che abbiamo visto il volto di Dio che ci ha guardato coi suoi occhi il sogno della vita che ti prepari ad andare a vedere Don Manuel no sorella no qui e ora in casa tra noi soli tutta la verità per quanto amara amara come il mare dove vanno a finire le acque di questo dolce lago tutta la verità per te che stai arroccata contro di lei no no Lassaro questa non è la verità la mia sì la tua ma quella di anche la sua ora no Lassaro ora no ora crede un'altra cosa ora crede guarda Angela una delle volte che Don Manuel mi diceva che ci sono cose che anche se uno le dice a se stesso deve tacerle agli altri e replicai che me lo diceva per dirsele a se stesso queste stesse cose finì col confessarmi che credeva che più d'uno dei più grandi santi forse il più grande era morto senza credere nell'altra vita è possibile? e come se è possibile e ora sorella abbi cura che neppure sospettino qui nel paese il nostro segreto sospettarlo gli dissi se per pazzia cercassi di spiegarglielo non lo capirebbero la gente non si intende di parole la gente non ha inteso altro che le vostre opere volerglielo spiegare sarebbe come leggere ai bambini di otto anni qualche pagina di Santo Amaso d'Aquino in latino bene e quando me ne andrò prega per me e per lui e per tutti e giunse al fine anche la sua ora una malattia che stava minando la sua robusta costituzione sembrò esacerbarsi con la morte di Don Manuel non mi spiace tanto di dover morire mi diceva nei suoi ultimi giorni quanto che con me muore un altro pezzo dell'anima di Don Manuel ma quel che resta di lui vivrà con te finché un giorno persino noi morti moriremo del tutto quando stava agonizzando la gente entrò come si usa nei nostri paesi a vederlo agonizzare e raccomandava la sua anima a Don Manuel a San Manuel Bueno il martire mio fratello non le disse niente non aveva più niente da dirle le lasciava detto tutto tutto quel che è detto era un'altra graffa in più tra le due Valverde di Lucerna quella del fondo del lago e quella che si guarda sulla sua superficie era già uno dei nostri morti di vita anche lui a suo modo uno dei nostri santi rimasi più che desolata ma nel mio paese e col mio paese ed ora dopo aver perso il mio San Manuel il padre della mia anima e il mio Lazaro mio fratello ancor più che carnale e spirituale è ora che mi rendo conto che sono invecchiata e di come sono invecchiata ma li ho veramente persi sono davvero invecchiata mi avvicino davvero alla mia morte bisogna vivere e lui mi insegnò a vivere lui ci insegnò a vivere a sentire la vita a sentire il senso della vita ad immergerci nell'anima della montagna nell'anima del lago nell'anima della gente del paese a perderci in esse per restare in esse mi insegnò lui con la sua vita a perdermi nella vita della gente del mio paese e io non sentivo passare le ore e i giorni e gli anni più che non sentissi passare le acque del lago mi sembrava come se la mia vita dovesse essere sempre uguale non mi sentivo invecchiare io non vivevo più in me ma vivevo nella mia gente e la mia gente viveva in me io volevo dire ciò che loro i miei dicevano senza volere uscivo in strada la strada maestra e siccome conoscevo tutti vivevo in loro e mi dimenticavo di me mentre a Madrid dove sono stata qualche volta con mio fratello non conoscendo nessuno mi sentivo in una terribile solitudine e torturata da tanti sconosciuti e ora scrivendo questa memoria questa confessione intima della mia esperienza della santità altrui credo che Don Manuel Bueno che il mio San Manuel e che mio fratello Lazaro siano morti credendo di non credere ciò che più ci interessa ma senza credere di crederlo credendolo in una desolazione attiva e rassegnata ma perché mi sono domandata molte volte Don Manuel non cercò di convertire anche mio fratello con un inganno con una menzogna fingendosi credente senza esserlo e ho capito che fu perché capì che non lo avrebbe ingannato perché con lui non gli sarebbe servito l'inganno che solo con la verità con la sua verità l'avrebbe convertito che non avrebbe ottenuto niente se avesse preteso di rappresentargli una commedia tragedia piuttosto quella che rappresentava per salvare la sua gente e così in effetti lo guadagnò alla sua pia frode così lo guadagnò con la verità di morte alla ragione di vita e così guadagnò a me che mai ho lasciato trasparire agli altri il suo divino santissimo gioco ed è che credevo e credo che Dio nostro Signore per non so quali sacri e imperscrutabili disegni li fece credersi increduli e che forse al termine del loro transito cadde la loro benda e io credo scrivendo questo ora qui nella mia vecchia casa materna ai miei cinquant'anni e passa mentre si imbiancano insieme la mia testa e i miei ricordi sta nevicando nevica sul lago nevica sulla montagna nevica sui ricordi di mio padre il forestiero e di mia madre di mio fratello Lassaro della mia gente del mio San Manuel e anche della memoria del povero Blasiglio del mio San Blasiglio che mi protegga dal cielo e questa neve cancella angoli e cancella ombre perché persino di notte la neve illumina io non so che è verità e che è menzogna né cosa ho visto e cosa ho solo sognato o meglio cosa ho sognato e cosa ho solo visto né cosa ho saputo né cosa ho creduto non so se sto trasferendo su questo foglio bianco come la neve la mia coscienza che deve restare in esso per starne io senza a che tenerla ancora so forse qualcosa credo forse qualcosa e questo che sto raccontando qui è successo ed è successo così come lo racconto e possono succedere queste cose o non è che un sogno sognato dentro un altro sogno e sarò io Angela Carbaglino oggi cinquantenne la sola persona che in questo paese si vede assalita da questi pensieri strani per gli altri e loro gli altri quelli che mi circondano credono e cos'è credere almeno vivono e ora credono in San Manuel Bueno martire che senza sperarla lui li ha mantenuti nella speranza dell'immortalità sembra che l'illustrissimo signor Vescovo quello che ha promosso il processo di beatificazione del nostro santo di Valverde di Lucerna si proponga ora di scriverne la vita una specie di manuale del perfetto parroco e perciò raccoglie ogni sorta di notizie a me le ha chieste con insistenza mi ha incontrato gli ho dato ogni sorta di dati ma mi sono ottenuta sempre il segreto tragico di Don Manuel e di mio fratello ed è curioso che lui non lo abbia sospettato ho fiducia che non giunga alla sua conoscenza tutto quello che lascio scritto in questa memoria temo le autorità della terra le autorità temporali fossero anche quelle della chiesa ma questo rimane qui ed è la sua sorte ciò che sarà come è giunto nelle mie mani questo documento questa memoria di Angela Carbaglino ho qui qualcosa lettore qualcosa che debbo tenere segreto te la do così come mi è giunto eccetto poche correzioni pochissimi particolari di redazione somiglia molto ad altre cose che ho scritto io questo non prova nulla contro la sua obiettività la sua originalità e poi che ne so io se non ho creato fuori di me esseri reali ed effettivi di anima immortale che ne so se quell'Augusto Perez quello del mio romanzo Niebla non aveva ragione a pretendere di essere più reale più oggettivo di me stesso che credevo di averlo inventato della realtà di questo San Manuel Bueno Martire quale me l'ha rivelata la sua discepola e figlia spirituale Angela Carbaglino di questa realtà non ho affatto intenzione di dubitare ci credo più di quanto non vi credesse lo stesso santo ci credo più di quanto non creda nella mia stessa realtà ed ora prima di chiudere questo epilogo voglio ricordarti paziente lettore il versetto nono dell'epistola del dimenticato apostolo San Giuda quanto può un nome dove ci viene detto come il celeste patrono San Michele Arcangelo Michele vuol dire chi come Dio e Arcangelo arci messaggero disputò al diavolo diavolo vuol dire accusatore pubblico ministero il corpo di Mosè e non gli permise di portarlo a un giudizio di perdizione ma disse al diavolo che il Signore ti punisca e chi ha da intendere intenda voglio anche già che Angela Carbaglino ha mescolato al racconto i suoi sentimenti ne so che sia possibile diversamente commentare io qui ciò che ella ha lasciato scritto che se Don Manuel e il suo discepolo Lázaro avessero confessato al popolo il loro stato di credenza questo il popolo non li avrebbe capiti né li avrebbe creduti aggiungo io avrebbero creduto alle loro opere e non alle loro parole perché le opere non servono da base alle opere ma le opere sono sufficienti a se stesse e per un paese come Valverde di Lucerna non c'è altra confessione che la condotta il popolo non sa neppure cos'è la fede né forse gli importa molto so bene che in ciò che si narra in questo racconto se si vuole romanzesco e il romanzo è la storia più intima la più vera per cui non mi spiego che ci sia chi si indigna se si chiama romanzo il Vangelo cosa che significa innalzarlo in realtà al di sopra di una cronistoria qualunque so bene che in ciò che si narra in questo racconto non succede niente ma spero che sia perché in esso tutto rimane come rimangono i laghi e le montagne e le sante anime semplici fissate al di là della fede e della disperazione che in loro sui laghi e sulle montagne fuori dalla storia sul divino romanzo hanno trovato riparo Salamanca novembre 1930 novembre 1930 Grazie a tutti.